buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo appuntamento in diretta oggi puntata particolare oggi è il 6 di marzo siamo all'inizio di marzo siamo gli inizi della primavera il caldo non è ancora arrivato però purtroppo stanno arrivando le infestanti ed è proprio delle infestanti che volevo parlarvi in questa diretta cercando di dare una strategia facilmente applicabile per contrastare per combattere insomma per limitare l'arrivo di questo fastidioso problema vedete il problema delle infestanti in realtà è un grosso problema soprattutto negli ultimi tempi perché le infestanti che sono arrivate nel prato nel tappeto erboso alcune delle infestanti che arrivano alla fine dell'inverno all'inizio della primavera nel tappeto erboso sono particolarmente ostiche il problema della gestione delle infestanti inoltre è un tema molto importante perché ovviamente laddove c'è l'infestante che crea comunque una disomogeneità del prato è una bruttezza chiamiamola così estetica laddove c'è l'infestante il prato ovviamente non può vegetare il problema degli infestanti inoltre è un problema che è strettamente legato alla cosiddetta gestione naturale e adesso vi voglio raccontare un piccolo aneddoto che mi capitò qualche anno fa quando ancora diciamo sì c'erano le tecniche di gestione naturali però in alcuni casi si andava giù con la mano pesante con la chimica beh insomma quando noi utilizziamo il prodotto chimico per fare il diserbo selettivo in realtà stiamo intossicando l'erba stiamo intossicando il prato è inutile girarti attorno o dire delle cose diverse da quello che vi sto dicendo io chi vi racconta che i prodotti chimici che vengono utilizzati per il diserbo selettivo sono dei prodotti tutto sommato poco intossicanti dicono dice una bagianata e prova ne è che quando si fanno dei diserbi selettivi ma tutte le volte che si utilizza la chimica per il diserbo o la chimica per la gestione delle patologie di fatto il prato va bisogna metterlo in quarantena questo questo termine insomma che in questi giorni ci risuona molto forte nelle orecchie di fatto quando si fanno i trattamenti di diserbo selettivo o quando si fanno i trattamenti scusate qua mi dice che c'è un po poco campo vediamo di spostarmi un po tengo in mano la telecamera eccoci qua di fatto bisogna sospendere l'utilizzo la fruizione del prato per anche tre o quattro settimane in buona sostanza dovremo andare praticamente a fare il trattamento e tenere bambini animali e tutte le persone che ci vanno sopra o distante dal prato per molte settimane capite benissimo che trovare un'alternativa a questa gestione è molto importante e negli ultimi anni io mi sono applicato in maniera molto diciamo così concreta nel tentativo di trovare delle soluzioni che poi ho raggruppato in quello che chiamo il metodo besprato per affrontare le infestanti allora prima di entrare nel cuore di questo video spero di avervi fatto capire l'importanza e vi chiedo di guardare questa diretta fino in fondo e magari anche di condividerla ai vostri amici di mettere sì un mi piace ma soprattutto cercare di diffondere questi video io sono fabio polo sono il responsabile tecnico di www.besprato.com oggi il portale il sito internet numero uno in italia per quanto riguarda specializzato nel tappeto erboso in maniera particolare ma anche insomma parliamo anche di giardino inoltre sono l'autore di a filo d'erba il metodo besprato per avere un bel prato un libro che trovi disponibile nei migliori negozi così si dice ed è in amazon ed è il libro nel 2019 più venduto sulla gestione del tappeto erboso in italia allora di cosa parleremo in questa diretta e tra un attimo andremo anche a fare proprio delle operazioni di nel prato andremo a riconoscere le infestanti allora il metodo besprato propone una strategia a sei punti di contrasto completamente naturale delle infestanti ovvero è possibile e questo non lo dice solamente Fabio Polo ma lo dicono fiorfiordi agronomi a dire la verità non tutti però c'è un motivo per cui non sono tutti è possibile controllare l'80% ma secondo me anche il 90% delle infestanti senza l'utilizzo di un becco di chimica è evidente che per fare questo tipo di lavoro e adesso vi spiegherò alcuni elementi c'è bisogno di cambiare completamente il paradigma trovo quantomeno un po paradossale che ancora oggi nel 2020 siamo nel 2020 utilizziamo pesantemente la chimica inquinante tossica per fare giardinaggio io capisco se uno non lo so utilizzo la chimica per altre finalità ma proprio nel giardinaggio che dovrebbe essere l'espressione massima della sostenibilità credo che sia una buona regola utilizzare il più possibile strategie di tipo naturale ma veniamo al cuore della cosa allora non vi racconterò tutte le sei strategie del metodo besprato perché nella descrizione di questa diretta qui sopra nella pagina facebook e qui sotto invece nel nostro canale youtube troverai un link con un riepilogo di tutte le cose di tutte le strategie del metodo besprato per combattere le infestanti in modo naturale in questa diretta vorrei soffermarmi su due o tre aspetti che possono essere già esemplificativi di quello che è poi la strategia finale allora partiamo subito con una premessa che le infestanti ci sono tutto l'anno ci sono due periodi molto importanti e significativi per la presenza delle infestanti il primo periodo è adesso la fine dell'inverno in cui arriva a strombattente come si dice la poa annua la poa trivialis in alcuni casi alcuni loietti infestanti ma soprattutto la poa trivialis quei ciuffi chiari di erba chiara oppure la poa che stagliano sopra generalmente la festuca e rundinacea oppure la poa annua che si riconosce per quelle piantine che vanno in continua semenza adesso è il periodo di quelle infestanti ma se poi questa diretta, questo video lo starete vedendo anche a primavera inoltrata o meglio in estate quasi arrivata sappiate che poi ci sono tutte le infestanti chiamate infestanti annuali di tipo estivo e anche perenni di tipo estivo come la digitaria, la settaria, l'eufordia, le gramigne eccetera 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 queste strategie valgono per tutte le infestanti allora vediamo due elementi chiave ma ripeto la strategia ha l'effetto solamente se viene messa in pratica nella sua interezza allora una prima cosa è ritornare a fare un po' di estirpazione io non so da quando è arrivata la chimica tutti pensano che basta una pillolina e i problemi si risolvono vi ricordo che l'utilizzo della chimica combatte i sintomi non le cause quindi siamo bene o male che a capo utilizzando la chimica io personalmente una o due volte alla settimana non faccio altro che andare a fare una passeggiata nel mio pratticello con questo strumentino voi direte si Fabio ma cosa ci vuoi dire che bisogna estirparle manualmente una per una a tutte quante non sto dicendo propriamente questo ma sto dicendo che se tu in maniera come si dice pronta in maniera costante tempestiva non mi veniva il termine noti la presenza di alcuni focolai che stanno nascendo la cosa migliore è adottarsi in un coltellino andare a spostare l'erbetta e fare l'estirpazione della pianta infestante alla sua radice quando ci sono delle situazioni molto estese ovviamente dove ci si trova magari con delle zone da un metro quadro completamente infestato beh lì bisogna procedere o con un diserbo naturale con un acido pelargonico oppure con degli attrezzini che ve ne faccio vedere unico uno che ho scoperto da poco e che è veramente fotonico guardatelo qua è praticamente un estirpatore rotativo ovviamente che va utilizzato io lo utilizzo solamente in determinate condizioni questo qui lo utilizzo anche per fare una sorta di sarchiatura che in realtà sarchiatura non è ma è estirpazione profonda nelle uole fiorite o in altre situazioni però in alcuni casi dove c'era un sembramento totale solo di infestante utilizzando questa asportazione elicoidale questo prodotto poi lo trovate comunque linkato nell'articolo che vi ho messo e poi metterò anche il link diretto così lo potete avere a disposizione insomma l'estirpazione manuale alcuni dicono ma Fabio tu sei pazzo sei folle ci stai consigliando di andare sul prato a estirpare sì ragazzi ve lo sto proprio consigliando non è non ci vuole tanto tempo non serve non è faticoso e se uno prende in considerazione il tempo che sta a fare un trattamento prendi la macchina vai su in macchina vai a prendere il prodotto che era finito mettilo nella pompa fai giusti dosaggi fai spruzza mettiti le mascherine i guanti stai attento a non respirare poi dopo aver terminato pulisci la pompa svuota tutte quante le cose riponi le cose togli la mascherina botti via la mascherina prendi i guanti dagli una sciacquata cioè ragazzi di cosa stiamo parlando quanto tempo si sta a fare 200 metri quadri di questa cosa quando magari 10 minuti un quarto d'ora si prende il coltellino adesso mi alzo si va a fare un giretto tra l'altro è una bellissima cosa andare a controllare perché quando si fa il giretto nel prato alla ricerca degli infestanti qua siccome è un lavoro che faccio con molta costanza ne sto cercando un po' da farvi vedere vediamo se riesco a trovare ma insomma io in questi giorni le ho praticamente tolte tutte vediamo se mi è riccata facciamo subito il cambio di visuale so se la vedete eccola qua la mia amica poa annua c'è una spighetta ve la faccio vedere qua in realtà il coltellino non serve siccome la spighetta generalmente non è mai nella poa annua sopra la pianta ma leggermente laterale io poi la pizzico alla base eccola qua voilà signori ecco la mega il super lavoro da fare poi ovviamente dovete stare attenti di non andare a riporre ad appoggiare questa poa da qualche parte vicino al prato perché poi si crea un problema vabbè questa qui era il primo elemento uno degli elementi uno dei sei elementi che fanno parte della strategia naturale del metodo besprato per combattere gli infestanti ovviamente non è l'unica anzi ce ne sono molte molte altre e adesso volevo soffermarmi su un altro aspetto c'è ovviamente la gestione del taglio della che appoggio la poa distante dal prato e così facciamo anche due passi di nuovo c'è la gestione del taglio la gestione del taglio l'inalzamento del taglio il taglio frequente tutte le strategie ci sono le risemine ci sono tutta una serie di operazioni che troverai descritte sono sei per cui te le puoi andare a vedere la seconda sulla quale volevo soffermarmi è strettamente legata a quello che si fa in questi giorni ovvero la concimazione è molto importante questo fattore perché devi sapere che la concimazione molto spesso i concimi che vengono utilizzati per primavera hanno un contenuto di fosforo che non ha nessun senso nella gestione normale del prato il fosforo molto importante durante non ha modo cioè non ha bisogno di essere utilizzato invece durante una concimazione normale del prato in primavera il prato l'erba è capace di trovare il fosforo tranquillamente nel terreno soprattutto se il terreno è stato ammendato cioè gli è stata data sostanza organica e da qui il solito mio mantra di ridare sostanza organica sempre prima delle concimazioni quindi la strategia del metodo Bessprato prevede di utilizzare se si esegue una concimazione di tipo primaverile fondamentale azotata di utilizzare dei concimi che hanno dei bassi bassissimi quantitativi di fosforo perché il fosforo esalta lo sviluppo radicale esalta l'insediamento esalta l'attecchimento del prato e delle infestanti quindi in questo periodo il mio consiglio è quello di andare a utilizzare dei concimi che non hanno pochissimo fosforo al loro interno o addirittura non ne hanno e per fortuna alcuni produttori si sono svegliati e hanno capito l'importanza di dare al mercato questo tipo di prodotti l'importanza di contrastare le infestanti è molto significativa perché prima non l'ho detto ma in realtà non esistono diserbi selettivi per andare a contrastare ad esempio la poannua la poannua ci sono dei prodotti che però non sono registrati e tu non li puoi utilizzare che ti permettono magari di intervenire che ti permetterebbero di intervenire ma non ci sono non sono disponibili tu non li puoi comprare non possono essere utilizzati tra l'altro selettivi sulla poannua ma io vabbè non voglio neanche entrare in questo discorso rimaniamo nella nostra concretezza non c'è soluzione quindi per chiudere questa diretta prima di saltare le conclusioni e allora cioè ok possiamo fino a un po' fino a un po' di tempo fa potevamo contrastare le infestanti con i prodotti chimici sì ma non la poannua la gestione di tipo chimico del tappeto erboso è una gestione anacronistica fuori dal tempo moderno che intossica il prato che ci costringe cani gatti bambini a tenerli a distanza chissà per quanto tempo anche e chissà con quale certezza i produttori dei prodotti chimici dicono che non sono residuali vabbè voi date ai produttori dei prodotti chimici la responsabilità della vostra salute della salute dei vostri bambini della salute no no non esiste ragazzi sposate la strategia naturale abbiamo costruito in tutti questi anni una metodologia che è efficace ripeto l'80-90% dei problemi riuscite a risolverli in questa maniera dopodiché se c'è un residuale se c'è una particolare situazione cronica estesa eccetera eccetera io non faccio il talebano non voglio dire che il prodotto chimico per forza di cose dobbiamo toglierlo completamente in alcuni casi magari limitatamente è possibile da utilizzare bene allora ragazzi nella descrizione qui su facebook e qui su youtube troverete un link di riepilogo nel quale spiego punto per punto i sei le sei pratiche le sei azioni le sei strategie di contrasto naturale delle infestanti utilizzando il metodo bestrato all'interno troverete un po' anche quegli attrezzini che vi ho fatto vedere prima troverete i links ad alcuni prodotti ad alcuni buoni concimi da utilizzare che non hanno fosforo e troverete anche un po' di altre considerazioni soprattutto legate alla gestione del taglio perché la gestione del taglio è uno dei motori principali per soprattutto contrastare la germinazione l'attecchimento di un eventuale infestante ok bene ragazzi con questo abbiamo concluso concluso questa diretta vengo a rispondere alle vostre domande nel frattempo ovviamente vi ricordo che bestrato oltre che fare queste dirette su facebook queste dirette su youtube e soprattutto anche una newsletter che conta abbiamo superato i 18.000 iscritti abbiamo anche un canale telegram abbiamo raggiunto i 250 iscritti su questo canale nella newsletter noi praticamente due volte alla settimana tutto l'anno spediamo delle considerazioni tecniche degli articoli tecnici scusate guarda caso l'articolo proprio che abbiamo pubblicato stamattina e che in un'altra parte in un'altra newsletter pubblicheremo domani mattina riguarda proprio il contrasto delle infestanti quindi condividi questi video metti mi piace iscriviti al canale facebook iscriviti al canale youtube iscriviti alla newsletter se ritieni che queste considerazioni questi questi spunti ti possano essere utili nella gestione del tuo prato